Buonasera, buonasera da Sergio Fuego di Orbolandia. Oggi vogliamo parlarvi di iOS 16 e di come ha migliorato e modificato l'invio delle nostre mail, sempre parlando di iPhone. Allora apriamo subito mail, facciamo prima. Doppio tappo e apriamo l'applicazione mail sull'iPhone. Torniamo indietro, andiamo all'inizio, così vediamo come è strutturato, andiamo verso destra e troviamo. Il primo pulsante entrata che troviamo è l'entrata, praticamente ci fa vedere le mail di tutti i nostri account, ne abbiamo uno, dieci e non ha importanza, ce le fa vedere tutte nel primo. Se invece vogliamo vedere qui, in pratica, se io adesso in doppio tappo, vedo le mail di tutti i miei account. Vado ancora verso destra e posso, diciamo, vedere singolo account. Ecco, vedete, da prima ce n'era quattro nei generali, Muzzolone ha tre, quindi se io volessi vedere solo quelli di Muzzolone, account Muzzolone, entro qui e vedo solo le mail in arrivo a Muzzolone. Altrimenti, iCloud, iCloud, Orgolandia, VIP, OCC, 3, invia più tardi, un messaggio non letto. Invia più tardi, questa è una cartella che viene costruita, viene aperta solo quando abbiamo dei messaggi, diciamo, inviati, mail inviate postdatate. Quando abbiamo inviato tutte le mail postdatate, questa cartella sparisce, che appare solo quando abbiamo dei messaggi. Ok, torniamo indietro. In basso a destra troviamo il pulsante crea, scrivi, scrivi. Ok, diamogli un doppio tappo e facciamo una mail nuova. Campo di testo. Ah, campo di testo. Stai modificando. Modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio. Ecco, vedete, dice, stai modificando, sei già posizionato sul campo di testo, diciamo, per scrivere l'indirizzo a chi vogliamo inviarla. Quindi io adesso scrivo, andiamo, tanto per cambiare, al nostro caporedattore, Giovanni, quindi inizio a scrivere l'indirizzo della sua mail. Invio M M maiuscole A A N N H G G O I I O O spazio C U U E E Ok, ho scritto solo Mangiove e adesso vado a toccare il campo di testo e vediamo se mi trova già lui l'indirizzo. A. Campo di testo. Stai modificando. Mangiove. Modalità caratteri. Punto di inserimento alla fine. Aggiungi contatto. Giovanni Manzo. Mangiove chiocciolagmail.com Ecco, vedete che me l'ha già trovato. Azioni disponibili. Quindi io do un doppio tappo sull'indirizzo che mi ha già trovato, sto facendo solo dei flick orizzontali verso destra, do un doppio tappo sul nome che mi ha trovato. Mi dice anche con che account sto inviando questa mail, preparandomi ad inviare questa mail, volendo do un doppio tappo posso cambiare account fra quelli che ho. Vado ancora con il flick a destra. Oggetto. Campo di testo. E qui abbiamo l'oggetto da scrivere. Doppio tappo per aprire il campo di testo con un dito. Punto di inserimento alla fine. Prova, invio, mail, posta tata. Inserito prova, invio, mail, posta a casa. Eh, posta a casa. Annaggia, è sbagliato. Però io faccio finta di non accorgermi, no? Io non ho nessuna cosa, ho scritto. Dico dopo lo correggo, ok? Ecco, facciamo così. Facciamo solo per capire a cosa serve quello che adesso vi faccio vedere. Vado ancora verso destra. Avvisami, pulsante. Qui c'ho il pulsante avvisami se voglio essere avvisato quando ricevono o quando inviano. Corpo del messaggio. Fuego e Sergio. Corpo del messaggio. Doppio tappo e vado all'inizio. Sgocciola.pec.muzzolom. Punto di inserimento all'inizio. Suono all'inizio e scrivo. Buongiorno Giovanni, virgola. Sto facendo una prova di invio mail con date successive. Inserito buongiorno Giovanni. Sto facendo una prova di invio mail con date successive. Ovviamente io devo inviare questa mail a Giovanni, però devo correggere quello lì. Io però non me ne sono accorto, o meglio me ne sono accorto e ho detto adesso la correggo. O magari sto inviando una mail e mentre la sto inviando mi viene in mente che ho dimenticato un allegato. Insomma, sono mille motivi per fermare e modificare una mail già inviata. Ok, allora adesso io cosa faccio? In alto a destra. Invia. C'è il pulsante invia. Io le darò un doppio tap. Invierò la mail. Sentirete il rumore della mail che parte. E poi in basso a destra troverò un pulsante annulla invio. Ma la mail è già stata inviata. Quindi avrò il modo, abbiamo il modo con questi aggiornamenti di iOS 16 su live, di bloccare la mail e rimodificarla dopo inviata. Fate attenzione. Invia. Don un doppio tap su invia. Sentite. Mail inviata. Annulla invio. Annulla invio. E gli don un doppio tap. Annulla. Contrai bozza. E lui praticamente me la ritorna come una bozza. Vado a destra. Annulla. Prova invio mail posta a casa. Intestazione. Oh, prova invio mail posta a casa. Mannaggia. Invia. Pulsante. A. A. Giovanni Manzo. C. C. Campo di testo. C. C. N. Da. Sergio Chiocciola Muzzolone. Com. Oggetto. Prova invio mail posta a casa. Posta a casa. No, non va bene. Allora, correggo. Oggetto. Campo di testo. Stai modificando. Prova invio mail posta a casa. Modalità caratteri. Punto di inserimento alla fine. E io cancello. Elimina. Elimi. S. Elimi. A. Elimi. C. Parole con errori caratteri. Spazio. A. Spazio. A. T. S. S. T. Torino. A. Spazio. A. L'abbiamo preso anche questo. Elimina. Elimi. Spazio. Elimi. A. Elimi. T. Allora post. Devo scrivere datata. G. F. D. D. O. Q. A. A. Possa. Corpo del. In greca. T. T. A. A. In greca. T. T. A. A. Spazio. 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 Parole. Post datata. Ok. Post datata. A questo punto posso inviarla. Però a questo punto io non la invio direttamente ma la invio post datata stavolta per farvi vedere. Però io a questo punto l'ho aggiustata, ho messo la legato che mi sono dimenticato eccetera. In alto sentite. In via. C'è il pulsante invia. A questo punto invece vi faccio vedere come inviarla sì ma non adesso ma inviarla quando decido io. quindi qui invece che dare il doppio tap entriamo nel menu contestuale quindi i gesti classici da fare sono doppio tocco prolungato con un dito o tre tocchi con un dito. Io faccio il doppio tocco prolungato. Ascoltate i suoni che ci restituisce. Il suono del menu contestuale. In via ora mi dice. Io dico no. In via spazio alle 21. Mi dà delle opportunità. Stasera alle 21. In via domani alle 8. In via lunedì alle 8. Non mi va bene nessuno di questi. In via più tardi. Pulsante. Do un doppio tap su in via più tardi. Generico. Venerdì 11 novembre. Annulla. Mi dice oggi venerdì 12 novembre. In via più tardi. In testa fine. Pulsante. Qui fine quando ho finito ovviamente. Il messaggio verrà consegnato dal dispositivo allora che selezioni. Allora che selezioni. Segui la consegna. Assicurati che il dispositivo sia online. Ovviamente chiaramente se vogliamo che in quel momento parta il dispositivo deve essere online. Sennò partirà quando lo accendete. 12 novembre 2022. Pulsante. Espanso. Questo è espanso. Vado a destra. 18 28. Pulsante. Mi dà l'orario compresso. Quindi posso cambiare l'orario. Però prima di cambiare l'orario cambia. 12 novembre 2022. Pulsante. Espanso. 12 novembre 2022. Espanso. 18 20. In via. Mese. Novembre 2022. Pulsante. Novembre mi può andar bene. Martedì primo novembre. Pulsante. No. Mercoledì. Giovedì. Venerdì. Sa. Domedì. L'u. Mercoledì. Venerdì. È selezionato. Oggi. Sabato. 12 novembre. Domenica. 13 novembre. Lunedì 14 novembre. Lunedì 14. E do un doppio tappo. È selezionato. Lunedì 14 novembre. Domenica 13. Oggi. Sabato 12 novembre. Pulsante. Domenica. È selezionato. Lunedì 14 novembre. Pulsante. Il messaggio verrà consegnato dal dispositivo all'ora che selezioni. 18 28. Pulsante. 18 28. Cambiamo l'ora. Però l'ora non ci sta bene. Quindi gliela mandiamo che ne so un'altra ora qualsiasi. tanto. Io gli do un doppio tappo sull'ora. Abbiamo cambiato il giorno. 18 28. Espanso. Invia. 18 esatte. Elemento di selezione. 18 esatte no. Io voglio mandagliere alle 11 di sera. 19 esatte. 20 esatte. 21 esatte. 22 esatte. 23 esatte. 23 esatte. 30 minuti. Elemento di selezione. Diciamo alle 11, 23 e 30. E va benissimo. Altrimenti potrei, vedete, se adesso sono sui minuti, flicco verso l'alto. 31 minuti. In basso. 32 e 30 minuti. Ok. 23 esatte. Invia. E io do invio. Doppio tappo. Invia. 23, 30. 14 novembre 2022. Pulsante. Il messaggio verrà consegnato dal dispositivo all'ora che selezioni. Fine. Pulsante. Fine. Modifica. Pulsante. Caselle. Intestazione. E sono tornato alla mail. Quindi abbiamo inviato una mail per, diciamo, l'ora, il giorno, che abbiamo deciso noi. E quell'ora, quel giorno, lui invierà la mail. Quindi vedete che è davvero molto importante e semplice questa opportunità che ci dà l'iPhone su iOS 16. Da Sergio e Fuego per stasera è tutto. Un forte abbraccio a tutti. Grazie della pazienza ad ascoltarci. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie a tutti.